Provenienti dall'Austria, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera e Francia, i 200 cicloamatori sono giunti questa mattina intorno alle 11 nel comune di Cartoceto. L'iniziativa, come ci spiega il sindaco Enrico Rossi, è frutto di una collaborazione tra il comune stesso e quello di Gabicce Mare. Abbiamo ospitato la cicloturistica internazionale organizzata dal gruppo albergatori di Gabicce, l'abbiamo fatto molto molto volentieri. La Proloco in prima linea ha contribuito ad ospitare questo gruppo di cicloamatori e diciamo che la cosa mi fa molto molto piacere perché si è gettato insieme al comune di Gabicce, al gruppo albergatori di Gabicce, quello che è il primo seme di una collaborazione a livello di valorizzazione del territorio e soprattutto promozione turistica integrata, sia costruendo una rete solida tra mare ed immediato entroterra, sia soprattutto cercando anche di organizzare un network efficace per ciò che riguarda la promozione turistica dei territori che mette in risalto quelle che sono le diverse perle di bellezza della nostra provincia che ovviamente vanno dall'architettonico allo storico all'artistico ma senza dimenticare, come nel caso di Cartoceto, le eccellenze e le perle gastronomiche della nostra provincia.